Bentrovati amiche e amici per un nuovo appuntamento di Rubino Immobiliare News, il podcast della Rubino Immobiliare. Con me ancora oggi c'è il Presidente Andrea Rubino, bentrovato. Bentrovati. Allora Presidente, parliamo oggi di quelli che sono i documenti necessari per una compravendita di un immobile perché si pensa erroneamente che per vendere un immobile basti pubblicare un annuncio poi dopodiché si incontra una persona, si fa una trattativa e si vende l'immobile. In realtà ci sono diverse cose che vanno certificate a partire dagli atti, praticamente dall'atto di nascita dell'appartamento cioè dalla compravendita iniziale fino alle prestazioni energetiche che oggi sono di grande interesse. Vi capita spesso di avere clienti che non credono o non sanno di avere questo tipo di obbligo? Beh, persone un po' superficiali che mettono in vendita l'immobile senza sapere appunto quelli che sono i passi, quelli che sono gli obblighi che ricadono sulla proprietà, sul proprietario. Ma ecco, innanzitutto hai citato la certificazione energetica, ecco quello già è un primo documento preliminare che occorre far fare perché nel momento in cui io proprietario metto in vendita casa, o metto un annuncio o altro, devo già sapere quello che è il consumo energetico della mia casa. Io qua apro e chiudo una parentesi, è chiaro che oggi se si vende una casa usata, è chiaro che il risparmio energetico, o meglio la classificazione energetica è quella più bassa, diciamo che si può vendere lo stesso perché è usata, però bisogna avere questa certificazione perché è obbligatoria non solo negli atti di compravendita ma fin dall'inizio delle trattative, perché devo sapere. Ho detto, qui noi siamo in Puglia, chiaramente il clima non è rigido come può essere quello di Bozzano o d'altro dove effettivamente sapere quanto mi consuma la casa può essere determinante nell'acquisto. Certamente se per l'usato è relativo, perché può essere classe G o classe E, però relativo, perché se io devo comprarla usata, dopo la devo ristrutturare, basta cambiare gli infissi oppure basta cambiare anche la caldaia che già cambia tutto. Però chiaramente per il nuovo divento importante, perché se io devo comprare la casa nuova, è chiaro che devo sapere, spendo dei soldi, devo sapere in anticipo che cosa compro, anche perché oggi con tutti i materiali che si stanno usando, si sono usati per le nuove costruzioni, non è chiaro che c'è un grosso risparmio energetico, ma facciamo l'esempio, mi scordo soltanto anche di avere un pianto di riscaldamento o raffrescamento a pavimento già cambia tutto, quindi che le nuove costruzioni che si fanno, oppure anche nell'ambito delle case usate che vengono strutturate, è chiaro che se uno ha questo tipo di sistema già va a delle classi superiori, dopo dipende dalla caldaia, se è la condensazione o la condensazione, oggi c'è un'evoluzione molto spinta su questo, questo è un primo passo, chiaramente bisogna controllare il documento di provenienza della proprietà, perché la provenienza della proprietà ci sono altri motivi. Presidente Rubino, un aspetto fondamentale è anche verificare la provenienza della proprietà, dicevo prima l'atto di nascita, la compravendita dell'immobile. Sì, occorre verificare come è pervenuto l'immobile all'attuale proprietario che mette in vendita l'immobile, che può essere o per l'atto di acquisto precedente, oppure può essere anche per eredità, quindi per successione o per donazione, quindi bisogna controllare questo, come l'hai chiamato l'atto di nascita della compravendita, perché uno, come è venuto in possesso, perché ha acquistato, come ha acquistato questa proprietà. Un altro aspetto non secondario è anche verificare che sia abitabile, quindi il certificato... Dopodiché è chiaro che occorre vedere, questo è sotto l'aspetto giuridico, cioè della provenienza della proprietà, dopo occorre vedere, controllare quello che è l'aspetto urbanistico e catastale, che è importante per capire se la casa che si mette in vendita, come è stata costruita l'epoca della costruzione, se è stata munita di concessioni di erizia di un tempo, permesso di costruire attuali, cioè occorre vedere come è nata la casa e quali sono i titoli amministrativi, autorizzativi che l'hanno vista nascere e crescere. Se ci sono state magari delle sanatorie, se ci sono... O poi ci sono i sanatori, quindi occorre fare, oltre a fare questo controllo giuridico della provenienza della proprietà, occorre vedere l'aspetto urbanistico e catastale, quindi urbanistico dove vedere le licenze e le autorizzazioni che hanno permesso la costruzione di questo immobile, anche se vetuste, dopo occorre vedere se il progetto è conforme o comunque lo stato dei luoghi, cioè come è stato realizzato, è conforme al progetto e corrisponde anche alla premita catastale che è stata depositata in catastro, questo è il controllo giuridico, quindi la provenienza e il controllo catastale urbanistico sono i due passi importantissimi nella casa. Dopo è chiaro che occorre anche vedere se la casa è stata dichiarata abitabile perché occorre anche questo certificato, però questo non significa che se non c'è non si può comprare, bisogna capire il motivo per cui eventualmente non è stata data questa abitabilità, per esempio negli anni inizi del Novecento questo certificato di abitabilità non esisteva, quindi è chiaro che bisogna vedere, perché alcune volte quando la compra era la Palazzo d'Epoca, all'epoca non c'era il certificato abitabilità che è nata dopo questo periodo, quindi questo è un altro documento che occorre controllare, quindi questi sono veramente essenziali, dopo è chiaro che bisogna anche vedere se ci sono stati, a livello sempre giuridico, se ci sono delle ipoteche sopra, se c'è un mutuo sopra o comunque ci sono dei pregiudizi sull'immobile, questo si fa tramite una misura ipotecaria che viene fatta dal notaio, ma anche l'agenzia immobiliare, quindi per evitare sorpresa a livello di vincoli o di pregiudizi che possono stare e insistere sull'immobile, quindi questo è quello che occorre controllare principalmente. Va bene, grazie al Presidente Andrea Rubino anche per questa puntata dedicata alla documentazione necessaria per vendere casa, io vi rimando a tutti, alla prossima volta.